Musica Un saluto a tutti ragazzi da Messi91 siamo su One Piece Pirate Warrior 2 e dobbiamo fare il diario allevato Il diario allevato di Barbetta Nera, eccolo qua Tic, viene strano chiamarlo Barba Nera, è più Tic Allora, mi avete proposto uno scontro tra barbe e come potevo dire di no Lo scontro tra barbe è una cosa bellissima, la farò sicuramente Volete lavorare con me come parte della mia ciurma? Sono un mucchio di sciocchezze Se insistete allora provate a sconfiggermi, non so se ne uscirete in lesi comunque Zé, ah ah ah, giustamente Ok, ecco qua il nostro Barbetta Bianca Abbiamo, uh abbiamo la nostra, ottima scelta ragazzi, abbiamo la nostra ciurma come alleati, perfetto Perfetto, salva Marco, ah ed è là, sì Andremo a salvare Marco Allora, impostazioni monete, queste sono le monetuzzole tutte al 70, perfetto, che useremo Le abilità, che sono sempre quelle ragazzi, cambia solo il potenziamento dell'attacco in base al personaggio Ma se no gli altri sono sempre quelle L'alleato non è impostato, mmm strano Allora, l'altro personaggio che mi avevate detto di usare era Buggy mi pare Credo fosse Buggy, usiamolo come alleato, ok Io come ho letto scontro tra barbe ho detto basta Se non c'è un personaggio votato due volte barba bianca sia Whitebeard Non ricordo più cosa fa con sé l'età, ride, giusto, giusto, lui ride come un matto Giustamente Soccorri gli alleati, ok Allora, andiamo subito ad aiutare Markito, che è là in fondo Ok, catturiamo questo posto che... Oh, oh mio Dio, ma buongiorno anche a te amico mio Buongiorno, buongiorno anche a te Ma buongiorno a tutti quanti, morite, perfetto Allora, stavo dicendo, oh salve il minotauro Oh l'ho saltato, ho saltato via il minotauro, fa niente, va bene così Ho saltato via il minotauro, sono felice di ciò Volevo conquistare sto posto per il semplice motivo che c'è un effetto attivo E quindi volevo disattivarlo Semplice Vai, baghito Fai robe Dov'è il minotauro? Ah, già che lui è la macchina, guarda che figo Minotauro, devi vedere di schiattare tu e la tua barbaggine Tra l'altro quella cosa che fa con le braccia incrociate sembra tipo un ballo Ogni volta che lo fa mi ricordo un ballo che non è la polca Mi viene da chiamarlo polca ma non è la polca Credo sia un ballo russo, non lo so Piccole nozioni di cultura generali sbagliate tra l'altro Ma fanno... Facciamo finta che siano giuste Tanto baghia un buffone quindi si può dire di tutto su di lui Ora che mi ci fate pensare abbiamo messo insieme la leggenda dei pirati con il pagliaccio dei pirati Ragazzi, che squadra abbiamo fatto? La squadra più improbabile Non si formerà mai un gruppo del genere Allora, ma io non avevo fatto l'attacco Heaven Quella roba fighissima che dovrebbe capovolgere il mondo Perché è venuto fuori questo? Aia, presa Aia, 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 aia Brutto schifo Corralenti, attendere di... E tiè, perfetto E mo te la prendi tutta in faccia Ok Non è morto mai però Ma perché non muore quel... Dai muori maledizione Non ti posso attaccare se stai violetto così come sei No Sto facendo una figura barbosa Muori Ok Ok Allora, raccattiamo tutto Ecco, non serve più raccattare tutto Però c'è pieno di gente qua Perché non sono morti? Vabbè, facciamo questa cosa Fighissima che doveva fare anche prima e non ha fatto Non so perché Heaven and Earth shake Fighissimo attacco Che non ha girato la telecamera Quindi è figo metà però Ciao Magellan Sei là Oh, guarda Guarda che caso sei qua Dove sto andando Io stavo andando da quei tre Omuncoli nel territorio qua a fianco Ma posso fare Una deviata Ok Mi spiegate perché io giro l'angolo E la gente mi colpisce brutalmente Non lo puoi fare Capito Non lo devi fare Vai, giubbotte E more Schiva, schiva No Vai, baghitto Quanto può essere bullo Ma che figata Quella della macchinina È una roba bellissima Ok Ok, c'è un altro esatto territorio Da andare a sconfiggiare Perfetto Non l'abbiamo sconfiggiuto però Ma, manco così E mori Ok Ok, ritorniamo nella nostra strada Qua sotto Dai tre tizi Molto fieri Che stanno in questo territorio Però non ho più lachi da usare Pattume Spero che Ahia Ma vabbè Ma Allora Tre territori Tre volte che giro l'angolo E prendo una padellata in faccia Mi spiegate cos'è sta storia? Perché mi aspettano tutti alla porta? Fate schifo Basta Vi odio tutti Ecco Emominalbero Emominalbero L'attacco più figo della vita Pam Buggy Vai a colpire Aniabal Abbi la tua vendetta dopo Impel Down Forza Grandissimo Ecco Questo è un ballo Che al momento Mi sfugge il nome Però ok Mi informerò E lo scriverò da qualche parte Sicuramente Ah non l'ho fatto in tempo Vabbè Lol Fatto 100 Cioè veramente Barba Bianca Barba Nera Questi personaggi fighissimi Hanno attacchi Sono lenti Perché io mi trovo meglio con personaggi più veloci Però hanno attacchi che Sciottano la vita Di tutti Sono la potenza fatta personaggio Cioè se voi volete un personaggio Che faccia male E non vi interessa tanto schivare Questi sono i personaggi Barba Bianca e Barba Nera Sono i personaggi Fanno tanto di quel male A zona Ad area Che voi non avete idea Colpiscono tanta di quella gente Ma gli fanno del male serio Non è che la colpiscono e basta Gli fanno proprio Danno Cioè ogni volta che io faccio un attacco del genere Faccio almeno 100-120 kill A botta Quindi Fanno male Poi personaggi forti A mio parere Sono altri Perché io sono Più per i personaggi veloci Tipo Ener Tipo Aokiji Robin Robin perché mi piace usarlo Ho imparato ad usare l'attacco di difesa E quindi a volte riesco a fare anche partite Senza farmi colpire È un po' che non la uso Quindi non ci riuscirei mai più Ma a volte riuscivo a fare anche quello Ognuno ovviamente De Guzibus Però se volete fare del male a zona Questi sono i personaggi Questi sono i personaggi Ok roba Eh? Ok Marco tu non devi morire Quindi non lampeggiare Come stai facendo Impegnati Fai robe serie Impegnati Andiamo a conquistare Qua Ne mancano due Ce n'è uno qua e uno sopra Perfetto Allora arriviamo E precediamo la gente Che vuole padellarci in faccia Facendo questa cosa Attenzione Un centinaio di kill È per uno Per un Chi è il barbone Che non è morto Muoia subito Perché questi sono rimasti fermi Non li ho colpiti Perché mai? Che ovviamente è un attacco Powa Ma è un attacco Con Un certo raggio Non è che colpisce tutto il mondo Boom No 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 Missione completata Ah era lui che doveva uccidere Ok Ok No quello non prendiamolo L'attacco più figo della vita Perché Perché devi Rovinare l'attacco più figo del mondo Con la tua presenza Ok Vai buggy Sei tutti noi Non prendere qualcosa che hai davanti Bravo Brum brum Quanto può essere l'imbecillito Uno che Che si mette a fare la macchinina Mentre combatte Non ne ho idea mai Boom Andiamo a far fuori barba bianca Cioè barba nera Con barba bianca Ma barba nera Ok passiamo per di qua Stanno correndo tutti in faccia a Marco Pattume Andiamolo a salvare Guarda Povero Marco Corri barba Corri Marco resisti Ero Ho letto Ero Chi era Ero cosa Ero Guerriero LOL Ero Ok Tutti fuori da questo posto Proteggativo Ok Luci Kaku Sepp9 E si prendono una lancia in cui In quel posto Una lancia in quel posto Bam Marco Sono qua Marco Non scappare Sono qua Sono qua Sono qua Non scappare No Aia Ok Non sto capendo nulla Ok Ho capito che ci vuole Buggy Buggy salverà la situazione Attenzione a tutti Ci penserà lui Brum brum Fatto Eh mi piace quell'attacco Che ci posso fare Dai almeno uno uccidiamolo Ok Dov'è l'altro? No non ho fatto in tempo Scappa Ha tutta la vita Mi serve questo Prendilo Prendi Prendi L'oggetto Eh grazie eh Si è fatto colpire dal mondo Via 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 Che adesso cascano giù quelle cose Non sono cadute Ottimo Quanta gente incredibile c'è qua però Morite Morite tutti Fatto Dov'è cacchio? L'ho visto Lascia stare Marco Lascia stare Marco Lascialo stare tantissimo Muori Vai barba col pugno dinamico Dovevi fare il più male Dovevi fare il più male Così dovevi fare No aspetta 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 No non l'ho preso Aspetta Ok Ok Fatto Spazio Devo andare ad uccidere il mio gemello nero Fa razzista questa cosa Non era voluta È venuta così Eccomi Dove sei Titch? Fatto Dove sei Titch? Ah no 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 Eh vabbè Vedete Titch è forte Perché lui ha degli attacchi Che creano dei vortici E fanno questa cosa E non vedete più nulla Ecco perché Titch va sconfitto Con l'alleato in genere Perché così non vi può colpire E gliela mettete in quel posto In modo brutto Sì ok Buggy Quell'attacco è fighissimo Ma devi cercare di colpirlo Però Ok Ora scappo via No 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 Non ci provare a fare Black e all Black e all Ecco Ho fatto Ancora vivo però Mi serve roba Attenzione Ho bisogno di robe No 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 Qua Sì Boom Bianco contro nero Luce contro scurità Devi morire Forza Muori Titch Ok Quanti cazzotti Ma si ma ce li hanno tirati Tutti i tizi dietro le porte Cioè io aprivo le porte E mi trovavo le padelle in faccia Non è che facevo male alla gente Cioè voglio dire Perché tirarmi padelle Che ho fatto di male Che ho fatto Guarda che Che uomo fiero Ecco 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 dopo averlo visto così Voi non temete più nulla Temete lui e basta Il resto è fuffa Ok Di certo me le avete date Se uniamo le nostre forze Potremo conquistare il mondo Ecco una cosa che Volevo dirti Titch Noi stiamo unendo le nostre forze Per combattere Te Quindi Perché mai dovrei unirmi Cioè questa cosa non la capisco Noi stiamo battendo gli altri Stiamo riuniendo 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 forze Per conquistare Rossia No scusate Stiamo riunendo forze Per sconfiggere Titch Perché mo dovrei Unirmi a Titch Non ha senso Vabbè Ecco Buggy Tutta la sua fieraggine E il suo naso Da clown Che è vero È vero Non è finto Il naso di Buggy è vero È proprio fatto così Il suo naso Non è un naso finto Come sempre Like e commenta il video Iscrivetevi al canale E alla prossima Ricordatevi di votare il personaggio Per il prossimo diario Che è quello di Crick Un saluto a tutti E buona giornata Grazie a tutti